Un insegnante, un educatore meglio, oggi si trova di fronte a tre dilemmi chiave. Il primo è resistere o abbracciare il cambiamento, anche se questo magari fa un po' paura. Perché se si decide di resistere in maniera più o meno consapevole e si continua a fare le stesse cose che si sono sempre fatte, incuranti di come le cose cambiano e si rischia di commettere qualche passo falso o imbarazzante. Voi mi insegnate che gestire una classe è una cosa complessa, perché è un sottile gioco di potere in cui si trova un equilibrio molto delicato tra fiducia e controllo. E quando viene inserita la tecnologia in questo gioco, questo equilibrio viene alterato, soprattutto se la tecnologia è distribuita tra gli studenti, come nel caso di un tablet oppure di un computer portatile. Quindi la possibilità che si apre è uno spazio di anarchia potenziale, una perdita del controllo. E questa è vissuta spesso dall'insegnante come una minaccia rispetto alla propria autorità. Le reazioni tipiche sono due, o l'evitamento assoluto, quindi no tecnologia, oppure l'asservimento della tecnologia stessa a controllore per recuperare quel potere. E' un esempio il divieto di utilizzare YouTube in questa scuola. Ma se invece di recedere e abbarbicarci nelle nostre certezze e sicurezze sempre più fragili, sempre più minacciate, invece diamo il benvenuto a questo cambiamento e vediamo in quelle aree, in quegli spazi che si aprono un'occasione di innovazione didattica, di liberazione della propria creatività. Beh, allora la goffagine dichiarata, la nostra goffagine con la tecnologia, diventa la nostra più grande forza, nel senso che può essere utilizzata come leva per far crescere la fiducia nel rapporto tra insegnante e allievo. Mi spiego. Cedere il potere, nel senso di vederselo sfilare tra le dita e erodere dalla controparte, dagli eventi, è veramente perderlo. Ma se io il potere lo do, nel darlo, lo acquisto, colei che legittima, nell'atto del legittimare, viene legittimata molto di più della persona che sta legittimando. In altre parole, se io responsabilizzo i miei studenti riconoscendo dichiaratamente, in maniera ufficiale, anche cerimoniale, che loro hanno primato nella disinvoltura, nella conoscenza delle nuove tecnologie della comunicazione. E gli chiedo l'aiuto perché me le insegnino. Riconoscendo questa loro capacità procedurale, beh, forse posso aspettarmi che questo stesso ascolto mi venga contraccambiato nel momento in cui si vada a parlare dei contenuti o si valuti la maturità di un determinato ragionamento. Quindi, l'invito è a cogliere l'onda fideistica che vede nella tecnologia questo taumaturgo che risolve tutti i problemi e usarlo come paravento, come scusa ottimale per innovare la didattica, a prescindere dalla tecnologia. La tecnologia ha una funzione quasi di paravento, di window dressing, come direbbero gli americani, di vetrina. Si tratta invece di riuscire a risettare, come insegnanti, le proprie abitudini didattiche, risalendo al senso primigenio della spiegazione, del problema che si sta ponendo. Cioè, perché è importante trasmettere questo agli studenti? E poi lasciare che siano gli studenti a proporre i modi, le modalità più efficaci per diffondere queste conoscenze. E questo mi porta al secondo dilemma, e cioè, instillare, nel senso di mettere nella testa delle cose, oppure distillare, distillare talenti, cioè, studiare ciascun studente per capire qual è la melodia che lo fa lanzare, che lo fa sollevare, che lo fa fiorire. Mi tratta di coltivare la curiosità, perché credo che non ci sia dono più alto che un insegnante può offrire ai propri studenti, che è quello di infondere loro fiducia nell'esplorare se stessi e il mondo. Ma tutto questo, in pratica, cosa vuol dire? Beh, vuol dire dare voce quanto più si può agli studenti, far produrre dei materiali e pubblicarli in internet, quasi questo fosse un premio. Sapendo che questi vanno in internet, chiaramente c'è la pressione del pubblico, e quindi uno stimolo forte a fare delle cose di qualità. Ad esempio, se sono un insegnante di lingua, posso chiedere ai miei allievi trovatevi il video preferito vostro, del vostro cantante preferito su YouTube e metteteli sotto titoli in italiano, se il video originariamente è in inglese. Oppure trovate il copione, lo script di un film che esiste solo in italiano e traducetelo in inglese. Poi mettetelo a disposizione di chiunque, in maniera tale che abbiate veramente il senso che quello che stanno facendo serve al mondo, in modo da riconnettere il mondo della scuola al fuori, alla realtà concreta che spesso manca. Però dare voce non basta, perché quando tutti pubblicano ore e ore di filmati, di pagine, di blog, di wiki, come si fa a emergere dal brusio assordante di fondo? Come si fa a farsi ascoltare? Ebbè, la risposta è una sola ed è semplice e difficile al tempo stesso, cioè produrre valore, produrre qualità. Per qualità intendo la simbiosi di sostanza e forma, di bellezza e funzionalità. E' questo il segreto di Pulcinella della Apple che ne ha determinato questo successo planetario. e qui il ruolo dell'insegnante è proprio di garante della qualità dei contenuti. Ma lasciamo che siano gli studenti a stupirci nel trovare la forma più idonea a diffondere tra di loro queste nozioni, queste conoscenze. E questo porta al terzo dilemma, cioè individuo o gruppo? sopravvive ancora questa tendenza a pensare che la conoscenza sia un patrimonio individuale che risiede nella testa della gente, che noi siamo come dei lettori solitari che studiamo in assenza nel vuoto pneumatico. Questa è una mentalità anacronistica perché ormai veramente siamo tutti cyborg in bilico tra online e offline, siamo neuroni di questo sistema nervoso globale che è internet. Quindi non c'è più bisogno di cervelloni che siano depositari del sapere. Quello che è vincente oggi è la capacità di gestire la conoscenza e Google nell'esempio pre-claro è la capacità ricombinatoria dei Lego di capire delle relazioni delle interrelazioni tra le cose che sfuggono e più è lì che si fa che si fa la differenza e non solo relazioni tra cose ma anche relazioni tra persone per questo è così importante la dimensione del gruppo è l'apoteosi del paradigma pedagogico costruzionista in cui la collaborazione la co-creazione della conoscenza si dà nell'interazione tra la gente quindi queste capacità negoziali di collaborazione di risoluzione dei conflitti sono queste le caratteristiche le competenze che poi rendono una volta usciti dalla scuola quindi l'importanza in questo contesto di investire nell'apprendimento tapari è fondamentale a scuola si chiama copiare fuori la chiamano collaborazione diceva Robinson cioè abbandoniamo questa idea che il compito deve essere individuale perché la valutazione è individuale e quindi noi dobbiamo dare una pagella eccetera non è vero nel senso è possibile dare una valutazione individuale a una performance di una persona anche se questa si svolge all'interno di un gruppo o di una copia o di un trist nel senso che l'abilità dell'insegnante è proprio orchestrare mixare miscelare queste persone in maniera tale che da questa interazione emerga quali siano i valori in campo quale sia il grado di impegno di sforzo che ogni studente a profuso allora se ricapitoliamo e mettiamo tutto in ordine abbracciare il cambiamento distillare i talenti e investire nel gruppo sono tre risposte per ottenere quella che viene chiamata educazione 2.0 però a me questo termine non piace per me quello di cui abbiamo bisogno è un'educazione al quadrato nel senso che oggi secondo me ogni educazione dovrebbe cercare di essere una meta educazione cioè un educare all'educare voi insegnanti avete un compito difficile e nobilissimo se come questo funambolo in equilibrio su una corda che è sempre più lassa tra due generazioni tra due mondi e dovete ammaliare la vostra audience e ispirarla con il vostro esempio per tramandare quanto di più preziosa abbiamo cioè la cultura accompagnando questi giovani alla soglia della vita adulta cosa c'è di più nobile forse solo essere genitori e ciò nonostante io vi chiedo di più io come cittadino io come società vi chiedo di insegnare a insegnare sempre non solo con l'esempio ma veramente deliberatamente formare dei formatori perché la nostra società ha un estremo bisogno di gente capace di fare leva per innalzare la conoscenza condividendola saper condividere la conoscenza è a mio avviso il fattore cruciale del successo di un individuo che si inserisca nella società oggi grazie grazie